Il sottosegretario alla salute Andrea Costa in visita nel Vallo di Diano per fare un tour nelle strutture sanitarie e territoriali che soprattutto in questo periodo di pandemia sono state in prima linea tutela della salute dei cittadini. La pandemia ha messo in evidenza quanto sia importante investire nella medicina del territorio e quanto sia importante per il nostro paese avere una rete territoriale attrezzata in grado di dare i servizi idoni ai cittadini e quindi credo che l'occasione dei fondi del recovery sia un'occasione straordinaria e insieme dobbiamo condividere un percorso insieme a tutte le istituzioni per cercare di rafforzare questa rete e per avvicinare i servizi ai cittadini e non il contrario. C'è stato un momento in cui nel nostro paese si pensava che l'ospedale fosse la risposta a tutte le esigenze e tutti i bisogni. Questa pandemia invece ha messo in evidenza come c'è bisogno di un servizio sul territorio dove c'è bisogno di una rete il tema della digitalizzazione sicuramente è un tema importante ma il fatto straordinario è che realtà piccole come queste possono essere da esempio anche di iniziative da mutuare a livello nazionale quindi la testimonianza di come nel nostro paese ci sono tante eccellenze e credo che la presenza mia sul territorio di oggi sia innanzitutto la testimonianza della vicinanza alle istituzioni ai territori in un momento in cui i territori hanno fatto un lavoro straordinario pensiamo a tutto il nostro personale del servizio sanitario nazionale le farmacie che stanno svolgendo un'opera, un lavoro straordinario nel piano di vaccinazione ecco è la testimonianza della vicinanza, dell'aiuto e della disponibilità a proseguire in un percorso che ci deve vedere uniti insieme. Il sottosegretario Costa si sofferma poi anche sulle somministrazioni vaccinali visto che in queste ultime settimane si sono registrati disagi in diversi punti della provincia salernitana i vaccini arriveranno, assicura il sottosegretario raggiungeremo l'obiettivo dell'immunità di gregge entro fine settembre i vaccini stanno arrivando, arriveranno, sicuramente raggiungeremo l'obiettivo dell'immunità di gregge a fine settembre è chiaro che la questione AstraZeneca ha complicato un po' le cose c'è stato bisogno di una nuova pianificazione, di una nuova programmazione da parte delle regioni certamente oggi il nostro paese aveva e ha una struttura che forse ci permetteva di raggiungere anche le 700.000 dosi al giorno, questo purtroppo non sarà possibile ma certamente l'obiettivo delle 500.000 dosi al giorno sarà mantenuto da qui fino a fine settembre.